Ciao a tutti, ho appena finito di sfogliare insieme a voi il nuovo burda di giugno, vi lascio il link giù in descrizione che così potete andare a recuperarlo se ve lo siete persi e adesso invece sfogliamo il nuovo burda easy. Quest'anno sono previsti solo 4 uscite, infatti la prossima sarà a metà agosto o fino agosto, una cosa del genere quindi questo diciamo secondo me dovrebbe essere il numero pensato per l'estate. Lo sfogliamo subito insieme, come al solito cerco di abbinare alcuni tessuti che potete reperire direttamente nella mia marceria online e giù in descrizione vi lascerò il link alla marceria e anche alla pagina per iscrivervi alla newsletter e avere il 10% di sconto sul vostro primo ordine. Questa è la panoramica dei modelli, come al solito il burda easy parte da un modello base e poi ci sono le sue varianti, quindi qua abbiamo una maglia, una giacca, un abito, progetto jolly il basco, una blusa e una gonna. Le taglie per quanto riguarda il burda easy vanno dalla 34 alla 44 e sono taglie burda, infatti verso la fine della rivista avete la tabella delle taglie qui in fondo per confrontare le vostre misure così come indicato appunto nelle istruzioni e trovare la vostra taglia. Il tema della rivista è un po' il french chic, quindi la prima maglia ha questo scollo così quindi abbastanza aperto, sceso qui sulle spalle, quindi abbiamo questa versione qui con le manichine colte ovviamente per cucirla, tessuto jersey, quindi un tessuto elasticizzato in maglia. Per questo tipo di progetto vi consiglio più un jersey di cotone, se avete paura di cucire il jersey perché non avete la taglia a cucilo potete cucire anche a macchina, vi lascerò giù in descrizione il link a un video che ho fatto con i miei consigli per cucire il jersey con la macchina per cucire, vi mostro un po' di cuciture che potete utilizzare proprio per andare a cucire questo tipo di tessuti con la macchina. La stessa shirt ma con la manica a tre quarti, così a righe, se volete c'è anche un tessuto jersey a righe sulla mia marceria. Quest'ultima qua con la manica lunga è il volant sul fondo, quindi anche un po' più romantico se eventualmente poi vi piace l'effetto. Diciamo che come modello lo trovo poco estivo, ok? Magari un po' più da archivio, però effettivamente l'inverno anche lo scollo così è un pochino scomodo secondo me. La versione così a maniche corte, più estiva, al massimo una cosa che mi è venuta in mente adesso, si potrebbe pensare magari di tagliarla e di farci una sorta di top, magari con un elastichino piccolo sul fondo o magari modificando il cartamodello in modo tale che vesta più aderente sulla parte bassa. In questo modo la vedo anche un po' più giovane come maglia e appunto più estiva, più fresca. Secondo modello una giacca, anche qui punto di domanda sulla giacca d'estate, però potrebbe essere sempre un modello un po' d'archivio se appunto poi acquistate la rivista. E scollo tondo a bottonatura, le pence, una manica normalissima, quindi proprio giacca facile facile. Bottoni in questo caso, qui si vede meglio, sono di quelli automatici che si cuciono, quindi non serve neanche fare le asole, quindi ancora più facile. La seconda versione ha la manica leggermente più lunga, mi sembra di capire, e ha le tasche, quindi ha i taschini davanti, un taschino anche qui sul cuore, che però con questa fantasia di sofà non si vede tanto, quindi diciamo cambia un po' i dettagli. Anche qui le tasche, questa è una versione ancora più lunga e sotto prevede i laccetti. In questo caso ho messo i bottoni automatici, quelli proprio tipo gli anorak, che si possono mettere con la pinza. Torno al primo modello, secondo me per una giacca diciamo un po' più leggera, con molte virgolette per l'estate, nel senso che l'estate comunque fa caldo, però mettete caso che volete usare una giacchina, vi consiglio un tessuto in cotone mistolino, che potrebbe essere più fresco, o anche un denim, un denim medio pesante, comunque ci sta con un modello del genere. In alternativa una versione anche più colorata, potete optare per un canvas di cotone, anche questo comunque rimane abbastanza leggero addosso. Se pensate invece di cucirla più per magari la mezza stagione, oltre al denim vi consiglio il twill di cotone, quello non elasticizzato, che per questo modello va benissimo, o anche il velluto a coste più larghe. Terzo modello, quest'abito qui, secondo me è il modello più estivo in assoluto che c'è all'interno della rivista, ed è anche carino, cioè secondo me è molto bellino così da avere anche come archivio. Ha l'elastico sullo scollo, quindi poi potete anche scendere la manica sulla spalla, l'elastico ce l'ha anche qua delle manichine, e ha anche un elastico in vita, in questo caso è coperto dalla cintura, ma dal disegno comunque si vede che c'è un elastico. Questa versione qui è stata fatta con una viscosa, quindi un popelin di viscosa lo potete usare benissimo per questo vestito, viene bello svolazzante, si arriccia molto bene sia sulla vita che nelle altre parti che poi vengono arricciate con l'elastico. In generale sulla mia marceria trovate diverse fantasie per il popelin di viscosa, perché è una stoffa che a me piace molto l'estate, perché è veramente veramente fresca. Seconda versione dell'abito in questo caso con maxi volant, che vedete è abbassato sulle spalle, e sotto non ci sono le maniche, quindi si può anche rifinire immagino con uno sbieco il giro manica e aggiungere questo maxi volant. Anche questa è una versione molto carina dell'abito, cioè sembrano veramente due abiti diversi, ma partono dalla stessa base, e in questo caso hanno usato un cotone leggero. Secondo me per avere un effetto bello leggero svolazzante, quasi nuvola, io userei un wall di cotone e al massimo, considerato che il wall è veramente leggero, sul davanti non ci sono problemi, nel senso che poi si vanno a creare due strati di tessuto e rimane più coperto, non si vede la trasparenza del tessuto. La parte bassa invece aggiungerei magari una fodera alla gonna in wall di cotone, ma in tinta unita, in questo modo create magari lo strato e è meno trasparente. Comunque fa quell'effetto un po' nuvoletta, poi anche quello super fresco l'estate, veramente comodissimo addosso. Terza opzione, in questo caso manica lunga, hanno aggiunto i laccetti sulle spalle, quindi tipo spalline, perché tengono comunque il vestito sceso, sempre l'elastico in vita, l'elastico anche sui polsini della manica più lunga e la balza sul fondo. Ovviamente la balza sul fondo la potete usare anche per le altre versioni, come magari la manica lunga, la potete fare sull'abito in la prima versione, quindi senza la balza ad esempio. Questo l'hanno fatto con una mustola di cotone e se vi piace l'effetto così un po' a quadri, c'è una mustola di cotone di Katia che è in offerta nella sezione outlet della marceria, quindi c'è tutta una sezione appunto di prodotti scontati perché sono in fine serie, quindi potete dare un'occhiata lì, oppure c'è un'altra mustola molto carina che non sta nella sezione outlet, che però secondo me dà quell'effetto un po' romantico che vuole trasmettere l'abito e anche la rivista. Ultima cosa, se vi serve, dato che la balza comunque viene arricciata prima di essere cucita sull'orlo della gonna e sul mio canale youtube ho trovato un video su come arricciare la stoffa con la macchina per cucire, magari vi può essere utile per ricreare questo dettaglio. Poi abbiamo questa blusa senza maniche, in questo caso scollo tondo appunto senza maniche e sul retro c'è una bottonatura, ha anche le pencil sul seno per sagomare un pochino la figura. Questa è la versione base, secondo me la potete fare anche direttamente con un tessuto in cotone, con un po' pelin di cotone ad esempio o anche un raso di cotone per una maglia del genere va benissimo è anche abbastanza semplice poi da cucire. Versione 2 con le manichine con i volant, quindi appunto è stato aggiunto questo dettaglio qui diciamo che non mi fa particolarmente impazzire perché adesso vi mostrerò nel terzo, nella terza versione si vede un po' meglio, vedete che la manica non è proprio a filo diciamo con la linea della spalla è un pochino scesa e quindi il fatto di avere il volant che continua da questo giro manica non mi piace tanto perché appunto rimane un pochino sceso, però insomma questi sono gusti miei personali, poi vi aspetto anche nei commenti per sapere cosa pensate voi. Questo qua ad esempio è stato fatto con un po' pelin di cotone. Quindi terza versione, questa qui più crop, semplicemente un pochino più corta. Poi ultimo modello, la gonna, una gonna classicissima, nel senso che è proprio quella gonna base che insegnano magari ai corsi di cucito con le pants, con la zip, in questo caso sul centro dietro è molto classica come gonna, molto d'archivio, se non avete altri cartamodelli di questo tipo potrebbe essere carina da avere. Comunque c'è questa versione così mini, mini anche questa ma in questo caso con i due taschini e l'ultima versione è questa qui dove semplicemente hanno poi cucito delle balze ecco questa forse è la versione un po' più particolare se cercate una gonna così con le balze. Anche per questo modello vi può tornare utile il video che vi menzionavo prima su come arricciare la stoffa con la macchina per cucire. Come tessuti in questo caso hanno usato qualcosa di abbastanza strutturato potete usare ad esempio il lino misto cotone, potete usare il denim, magari lo abbinate poi alla giacchina di prima se volete fare una sorta di completo. Per questa versione qui che invece richiede un tessuto più leggero da arricciare che sia comunque dia un bel volume, che sia bello svolazzante, un popelin di viscosa che va bene appunto per un modello come questo. Trovate anche il cartamodello per cucire il vasco, non è prettamente estivo come modello ma diciamo che è in linea con lo stile che hanno dato alla rivista, forse non l'avrei inserito in un numero dedicato all'estate. In fondo alla rivista troviamo tutte le istruzioni e quindi si presentano così, diciamo sono illustrate ma non sono più illustrate come una volta se vi siete persi appunto l'aggiornamento sul numero scorso, in questo caso sono per colonne, diciamo le informazioni che trovate sono le stesse, comunque ci sono i disegni e semplicemente sono impaginati in un altro modo. Non abbiamo grandi spoiler per le anticipazioni del prossimo numero, sappiamo solo che uscirà a metà agosto. Quindi questi sono tutti i modelli contenuti all'interno del Borda Easy, presumo pensato per l'estate, infatti punto di domanda sui modelli all'interno perché a parte il vestitino che mi è piaciuto molto e secondo me è un modello d'archivio se poi vi piace anche il genere, gli altri modelli mi hanno lasciato un po' così, nel senso alcune cose tipo la giacca, il basco mi sembrano un po' invernali, ecco nel senso io sicuramente il basco d'estate non lo metto, però vi aspetto anche nei commenti per sapere cosa ne pensate voi, se appunto acquisterete la rivista, se i modelli vi sono piaciuti. Infine giù in descrizione come al solito vi ricordo che trovate il link alla mia marcella online dove potete acquistare tutti i tessuti che vi ho mostrato all'interno del video e vi lascerò anche il link per il nuovo Bruda Style così sfogliate anche quello se vi interessa. Vi mando un bacione, ci vediamo al prossimo video, ciao!